eccoci qua, oddio sta per vomitare allora continuiamo, andiamo avanti andiamo avanti in silenzio, in silenzio mi sembra di aver visto qualcosa, ho visto qualcosa, guardate, su nell'albero c'è qualcosa su nell'albero, dobbiamo andare in silenzio, guatti non dobbiamo fare rumore perché c'è lì una specie completamente nuova una specie è uno scimpanse messicano attenzione, ci avviciniamo lentamente, furtivamente perché non dobbiamo spaventarlo attenzione, può essere una specie non amichevole ci dobbiamo avvicinare lentamente adesso ci avviciniamo, vediamo un attimino attenzione, piano, piano allora ragazzi, allora ragazzi attenzione se non siete del mestiere, allora non fatelo a casa cortesemente attenzione, ci stiamo per avvicinare lentamente eccolo, proviamo il contatto il primo contatto, eccolo qui, questo scimpanse messicano eccolo, oddio, lo attacco